E qui di fianco a me, no, non c'è Dion Wong, ma c'è la Donna Summer di Baggio. Oggi ho deciso che sei questo. Buongiorno, Roberta Lamberto. Buongiorno, Fabio. Buongiorno. Assessora del Municipio 7, ha praticamente un terzo di tutte le delega, perché praticamente avete 200 delega e ve le dividete in tre, più o meno, no? Cioè, è così che funziona. Da rivedere. Fai, ecco, questo è rivedibile come facevano noi quando andavamo a fare i tre giorni, roba che tu non sai che cosa sono. Comunque, facci l'elenco, quali sono le delega che hai? Welfare, commercio, lavoro, pari opportunità, mobilità, urbanistica, disabilità. Ricordarsene tutte non è facile, infatti. Oggi quindi parliamo ancora di territorio, sono ben contento, perché insomma, sempre parlare di municipi, anzi, noi giochiamo in casa oggi, però in realtà siamo contenti anche di avere qui anche gli altri municipi, quando possiamo. Municipio 7, ricordiamo, insomma, uno su tutti, Baggio, così per ricordarlo, ma non solo, perché appunto... San Siro, De Angeli, ma anche Figgino, Muggiano, 170 mila abitanti, diciamolo, è più grande di Brescia. Ecco, più grande di Brescia, però è un municipio, quindi magari se noi rientriamo sempre in questo discorso del decentramento, che sai, noi, Roberta, siamo grandi fan invece del darvi il più possibile libertà di espressione a voi dei municipi. oggi qui a parlare di varie situazioni che appunto si vanno a creare sul municipio 7, ad esempio c'è anche uno stadio, ma non dovrei stare troppo adesso su quello... Uno, due, tre, quattro, stiamo cercando di capirlo. Ecco, e non è male se stiamo cercando di capirlo, è una roba che tutti quanti stiamo cercando di capire, non si capisce da chi, ma prima vorrei partire invece con un altro luogo che vedrà nascere un progetto bellissimo, ma che in un momento ha qualche difficoltà, su cui voi, anzi dei municipi, avete subito voluto mettere l'accento. Stiamo parlando dell'ex Marchiondi, giusto? Dell'ex Marchiondi, questo elemento di brutalismo italiano, tant'è che una sua miniatura è esposta anche al MoMA di New York. Siamo proprio a Baggio ed è questa struttura ormai completamente disabitata, in cui però in una piccola parte abbiamo il nostro centro di urno disabili. Io faccio sempre un cappello, ogni municipio ha dei centri di urni disabili che accolgono le persone con disabilità dopo il percorso scolastico fino a oltre i 60 anni. Possono esistere di doppia natura o convenzionati, quindi privato sociale, oppure del Comune di Milano. Noi ne abbiamo quattro, l'unico proprio di diretta gestione del Comune di Milano è proprio il nostro CDD Noale all'interno dell'ex Marchiondi. Perché ne parliamo però di questo CDD Noale? Perché ne stiamo parlando in questo momento? Perché insomma Marchiondi verrà visto da una riconificazione che finalmente arriva, no? Sì, arriva la luce dopo anni, chiaramente il Comune non poteva sostenere quella spesa. È riuscito però a vincere un bando importante con il Collegio delle Università e questo bando, diciamo che per capirci un attimo, tutto l'intervento cuba più o meno 45 milioni di euro. Quindi è un macro intervento. E tra l'altro, visto che ieri c'è stato il consigliere comunale Federico Boccelli, diventerà quel luogo proprio uno studentato universitario per le belle arti. Quindi si va a dare anche una risposta. Saranno 168 posti letto. Quindi da un immobile in disuso a 168 posti letto per gli studenti e le studentesse di Milano, diciamo che l'upgrade è importante. Sì, bello che viene anche già decisa la destinazione di facoltà, in un certo senso. Così che puoi anche andare, in un certo senso, a mischiare le intelligenzie giovanili che arriveranno nelle varie zone. Non succede spesso, infatti. Tra l'altro sarà anche un'opportunità per il quartiere, perché anche il tessuto poi economico e sociale si stravolge quando ci sono 168 ragazzi e ragazze all'interno di uno studentato. Però al netto di questa grande felicità è arrivata una fortissima preoccupazione, non solo da me ma dai caregiver e dagli educatori e le educatrici. Quale futuro per il CD di Noale? Perché sarà bello fare poi i grandi ragionamenti, però quest'estate inizieranno i lavori. Perché non è tanto sul dopo, lo spazio ci sarà sicuramente, anziché è bello vedere il CD di Noale rifatto da capo a piede, è bellissimo. Sono tre anni di lavoro. Tre anni di lavoro, in questi tre anni il CD di che fine farà? Ecco, questa è una grandissima domanda. Noi speravamo che ci fosse già una risposta e invece la risposta va trovata adesso. Quindi come municipio cosa abbiamo deciso di fare? Nell'istante in cui abbiamo saputo di questa notizia abbiamo pensato che fosse importante fare subito un atto ufficiale, una mozione firmata anche dall'opposizione, quindi che ha avuto l'unanimità in aula, in consiglio prima, in commissione prima, in aula poi, in cui appunto scriviamo nero su bianco che per noi non c'è assolutamente, che l'ipotesi dello smistamento per noi non è percorribile. Stiamo parlando di persone, stiamo parlando di anche gravi disabilità, abbiamo 20 ospiti all'interno del CD di Noale, non è un numero piccolo. Stiamo parlando di persone che non reagiscono bene ai cambiamenti, quindi già mandarli in un'altra struttura e accompagnarli in un'altra struttura sarà appunto un accompagnamento da fare. non accettiamo assolutamente appunto l'ipotesi dello smistamento. Se vuol dire quindi dividere quel gruppo e mandare un po' qui, un po' l'anni, gli altri CDD che tra i paesi non sono anche così vicini molto probabilmente. Esatto. L'assessore Bertolè, il direttore Barbalace, anche sull'ipotesi dello smistamento hanno detto non sarebbero più di due gruppi e faremmo dei colloqui individuali, famiglia con famiglia, per capire il CDD più vicino, ci sarebbe il pulmino e quant'altro. Ma da quanto ho capito, quindi non è tanto un tema di praticità in realtà, non è quello, è un problema di, sono persone che appunto il cambiamento, il cambiare anche il gruppo non è una cosa, anche solo dividere l'educatore. Perché noi ora parliamo di CDD, i CDD ci sono da relativamente poco, ma semplicemente prima avevano altri acronimi. All'interno di quella struttura, questa struttura per disabili c'è da 40 anni, vuol dire che ci sono ospiti lì da 20 e che quindi hanno magari avuto solo un educatore nella loro vita. e tra l'altro, a volte quando si parla, anche ho letto delle interviste, magari qualcuno non è proprio e scrive i nostri ragazzi, i nostri ragazzi, virgola, sono uomini e donne, i genitori magari hanno 90 anni, letteralmente, quando sono ancora vivi. Perché se parla spesso del dopo di noi e tutto... Ma anche durante, andrebbe un attimo approfondito. La questione qual è? Trovare un immobile lì vicino non è cosa semplice e veloce perché ATS deve dare l'approvazione. Quindi noi abbiamo fatto un lavoro anche appunto con i comunicati di stampa, con tutti voi che ci avete dato ascolto, proprio per dire a gran voce al Comune di Milano iniziamo immediatamente una mappatura sopra luoghi perché non può non esserci una soluzione. E allora adesso poi capiremo un po' come andrà a finire questa storia, anzi ti inizio è aggiornata, ma continuiamo a parlare anche di Municipio 7, del territorio, di tante altre tematiche e subito dopo un po' di musica sempre qui con Roberta Lamberto. Roberto lei stavo chiamando, pensate. Mi arrivano le sue email. Ah vedi, ti arrivano anche le sue email appunto. Roberta Lamberto, Municipio 7, qui con noi. Renato Zero con il triangolo alle 8 e 22 minuti qui su Crystal Radio, Good Morning Milano. Siamo qui appunto con Roberta Lamberto del Municipio 7. Stiamo parlando del futuro dell'ex Marchiondi e del futuro del CDD, però di via Noale. No, 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 scusate. Noale, no, 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 scusate, di via Noale. È un'azione politica quella che state facendo in tutti gli effetti. Cosa volete fare e qual è l'obiettivo adesso? È un'azione politica. Noi con il Comune da anni che lavoriamo vogliamo una Milano che vada avanti senza lasciare indietro nessuna fragilità. Ecco, non possiamo quindi immaginare che per fare spazio a uno studentato si debbano fare indietro le persone con disabilità nel nostro municipio. Tu lo sai tra l'altro perché sono stata qui proprio la mattina prima del lancio. Siamo l'unico municipio, l'unica città in tutta Italia che ha il progetto del sollievo. Un patto firmato dal Comune che significa che quando i nostri centri di urni disabili sarebbero chiusi Natale, Ferragosto, Pasqua noi come municipio finanziamo completamente le vacanze. Abbiamo avuto delle esperienze importantissime genitori di 70 anni che per la prima volta potevano andare sono andati al cinema a vedere il film della Cortellesi perché i ragazzi quarantenni erano al mare. Sì, ma vuoi che c'è questa cosa dei ragazzi sempre? A che punto mi dicevi che sono spesso uomini e donne? Questo secondo me è proprio un via sculturale come quando si dice incidente strotale non è un incidente perché se no facciamo pensare al caso come ragazzi facciamo pensare qualcuno che non abbia autonomia e responsabilità su se stesso non è così sono persone, sono adulti veramente sono adulti quindi noi non siamo pronti e disposti a far fare nessun passo indietro al nostro CDD Noale che è parte integrante del tessuto sociale economico, associativo, ricreativo, ludico del quartiere di Baggio. Stiamo aspettando dal Comune di Milano e dall'assessore Bertolè che ha capito la nostra istanza e è completamente allineato un report, un feedback su tutti i sopralluoghi fatti appunto di immobili in quest'ultima settimana e direi rimaniamo aggiornati. Eh sì, eh sì ti devi tenere aggiornati perché insomma è importante ricordami velocemente quel progetto che dicevi appunto del sollievo che è molto interessante Sì, è molto interessante anche perché ho avuto delle belle chiamate di altre città d'Italia soprattutto Centro Italia ma anche città molto molto grandi che hanno detto lo faremo anche noi mandateci tutto venite a raccontarlo in commissione io appena mi sono insediato ho avuto una mamma, una caregiver che è venuta il secondo giorno di assessorato e mi ha detto però già iniziamo bene esatto e mi ha detto pensi anche che quando voi avete i vostri giorni più belli per noi il carico è pesantissimo noi spesso parliamo delle persone con disabilità ma i caregiveri, i fratelli e le sorelle anche perché spesso l'età significa che poi arrivano i fratelli e le sorelle è veramente un peso davvero importante e quindi noi abbiamo deciso con la totalità del nostro portafoglio di fare con loro proprio un progetto quindi durante l'anno tante feste insieme tutti i quattro cd insieme adesso avremo la festa di Natale al centro di uno disabili Don Gnocchi in cui dei genitori che si sono conosciuti in questo progetto sono diventati una band musicale e suonano per i ragazzi però appunto in estate, in inverno fanno delle vacanze completamente appunto finanziate dal municipio e tutti prendono un po' di sollievo, un po' di respiro beh insomma questo è uno di quei progetti belli che nascono appunto pensate nasce in un piccolo tra molte virgolette municipio di Milano per poi appunto magari espandersi in tutta la penisola non sarebbe per niente male è questo che quando io rompo le scatole sul decentramento, sul dare perché anche la questione ad esempio del cdd noale se il municipio avesse avuto voce in capitolo perché voi molto probabilmente così non lo so ma mi butto in zappacadute voi avete saputo di tutto quanto a cose fatte giusto? sì ecco immaginavo magari invece se sono loro a dover decidere cosa fare non fare ma prima di tutto se sbagliano sappiamo a chi andare a bussare e dire allora cosa avete combinato secondo magari lo sapevate subito che c'era il cdd lì dentro dire ok guarda va bene il progetto ma come facciamo subito all'inizio cioè sarebbe più semplice sì noi siamo molto fortunati ad avere secondo me Gaia Romani come assessora al decentramento perché in questi anni sono stati fatti dei passi in avanti io lo continuo a dire l'obiettivo è Roma i municipi romani hanno piene competenze responsabilità, budget, indemnità perché questo poi è un altro grande tema hanno pagato lo stipendio ultimamente o no? sì abbiamo un buco di qualche mese infatti perché in tutto questo poi non è che prendete stipendi stellari ma manco li diamo perché sappiamo che da maggio a giugno abbiamo avuto un po' di mesi tra quattro mesi non vi è stato pagato lo stipendio perché c'era un cavillo tecnico per cui poi si è trovato il modo di pagarveli ma non li ha retratti ancora perché so che appunto anche il presidente del municipio 5 abbiamo avuto qui qualche settimana fa e mi ci raccontava anche lui appunto la stessa cosa vabbè questo farvi capire come è davvero l'obiettivo è Roma ma non pigliamose Roma come dice qualcuno ma più che altro copiamo Roma il decentramento copiamo il decentramento di Roma che sembra funzionare bene perché non portarlo anche nella nostra città perché non portarlo anche appunto nella Milano decentrata che è quella che tutti vorremmo un po' di canzone del tuo vicino di casa adesso va bene? Gali abbiamo Gali appunto con niente panico vieni alla sagra Gali ti aspettiamo prossimo anno era il forum due giorni dopo quindi aveva da fare conflitto interesse povero tapino va bene dai andiamo con Gali e poi torniamo qui ancora con Roberta Lamberto Taylor Swift Shade Off 8 e 35 minuti Crystal Radio Good Morning Milano Roberta Lamberto del Municipio 7 qui con noi che ha lanciato appunto un appello per chiedere a Gali di venire alla prossima Sagra di Baggio o ma che vada anche Telo Swift sì sì ci accontentiamo vorremmo Gali però nel caso c'è sempre Telo Swift potrebbe fare una mancarella con i braccialetti esatto quindi delle canzone poi gli introiti il municipio abbiamo bisogno un po' di progetti li faresti a quel punto ma nonostante non avete gli introiti dello Swift e Gali non è venuto a trovarvi di progetti ne fate veramente comunque tanti ora inizia il Natale anche tu che mi dici sta frase il 30 di ottobre mi viene detto ora inizia il Natale noi abbiamo deliberato a giugno sul Natale capite Mariah Carey viene scongelata dopo domani è già in ritardo esatto e cosa avete deliberato allora noi continuiamo con la nostra tradizionale pista sul ghiaccio in Selinunte per noi è importantissimo per la prima volta siamo riusciti appunto due anni fa ad avere la pista sul ghiaccio che ha un costo veramente importante per un'amministrazione abbiamo trovato una fondazione che la finanzia quindi siamo riusciti anche a fare una bella partnership pubblico privato falli pure i nomi se vuoi non c'è problema fondazione equità e soprattutto però abbiamo come capofila il CSI perché voi sapete lo racconto un po' nel nostro quadrilatero San Siro una periferia asprissima ma una periferia centrale perché sono come quattro muri invisibili in un quartiere che è tra i tre più ricchi di Milano e all'interno c'è proprio in piazzale Seninunte 2 una ex macelleria tantissimi metri quadri che appunto hanno chiuso dopo il covid perché è andata in bancarotta questa attività noi abbiamo fatto con l'ex assessore Maran che ora ci saluta da Bruxelles un cambiamento importantissimo dalla destinazione d'uso commerciale a sociale ed è diventato grazie al CSI che ha vinto il bando centro sportivo italiano una palestra per ragazzi e ragazze completamente gratuita box capoeira ginnastica la mattina per un anno c'è stata la scuola d'italiano per le mamme il baby parking insomma aggregazione sana e vera all'interno del quadrilatero per i ragazzi e le ragazze proprio lì dietro dopo il parcheggio retrostante avremo la pista da pattinaggio come municipio anche quest'anno intercetteremo tutte le associazioni parrocchie enti le scuole per dare i biglietti gratuiti per i ragazzi e le ragazze perché un evento del genere deve essere accessibile se no poi attira chi se lo può permettere non chi vogliamo essere il nostro target insomma è bello questo il progetto viene fatto ma viene fatto per chi ci vive poi tutti i giorni l'anno scorso siamo stati appunto all'inaugurazione sempre una bella emozione vedere poi questi ragazzi per cui alcune volte magari sono anche la prima volta che vedono una pista di pattinaggio l'anno scorso era la prima volta infatti quindi insomma adesso sono abituati quest'anno quest'anno vi chiederanno chissà cosa poi è molto bello il CSI porta sempre dei campioni olimpici dei paratleti ed è molto importante dare anche un'alta qualità in quegli ambienti per spiegare che tutto è possibile siamo anche comunque la città che fra due anni vedrà poi le olimpiadi quindi insomma magari che qualcuno si appassioni già prima delle olimpiadi a quello che potrà vedere non è male non è male non è male e tutto questo appunto grazie ai progetti che il municipio 7 ne fa ne fate veramente tanti cos'altro stai a Murales come siamo messi perché so che ce ne sono anche Murales in giro è fatile adesso quest'anno sulla resistenza adesso si sta lavorando con i centri di aggregazione giovanile sono i CAG quindi dove i ragazzi vanno a fare il doposcuola banalmente stanno facendo loro i progetti quindi tra un po' verrà la mia collega Erika Sovano a raccontarteli io invece ti dico che per tuttora il periodo di dicembre abbiamo tantissimi spettacoli mangiafuoco giocoleria in tutti i quartieri popolari del municipio con una grande festa in Via Quarti Via Quarti è una appunto anche lì casa di edilizia residenziale pubblica molto isolata le cronache non ho mai parlato molto bene anche diciamo esatto esatto vorremmo dare un'altra realtà quindi abbiamo firmato un patto di collaborazione con tutte le associazioni io in estate porto appunto l'educativa di strada il camion dei medici volontari che senza richiedere i documenti fa le visite gratuite appunto a tutte le persone e intanto i ragazzi e le ragazze giocano perché spesso non lasciano l'alloggio i genitori non solo per problemi economici ma perché sennò verrebbe occupato nuovamente quindi abbiamo un tema i bambini non fanno le vacanze i bambini e le bambine che non fanno le vacanze è un grande tema e perché infatti il tema del tempo libero è un tema interessante il tema anche di staccare la spina quello che noi diciamo che noi possiamo permetterci ma senza neanche pensarci cioè tu potresti mai pensare di non fare vacanze certo no io infatti a me era rimasto molto in mente una professoressa una maestra delle scuole primarie appunto del quadrilatero diceva che a settembre lei non chiedeva mai che cosa avevano fatto i bambini durante l'estate ho pensato che non fosse giusto un bel riscontro che abbiamo avuto è stato due anni fa quando la sesta maestra è venuta e ha detto quest'anno noi avevamo fatto tutto il progetto quindi nei cortili delle case popolari educatori tantissimi giorni merende sane dal parco agricolo sud insomma avevamo fatto un bel lavoro finanziato anche da Heinz quindi avevamo agganciato pure una bella una bella partnership tra i giochi c'era la pesca di legno quella con la calamita non so se te la ricordi però nella testa dei bambini quello è andare a pescare al mare quindi poi tornando a scuola hanno raccontato di essere andati a pescare per la prima volta a volte basta veramente poco se non possiamo andare in vacanza portiamo la vacanza a casa nostra è quello che siete riusciti a fare in quel caso posso rubarti solo 30 secondi per una cosa a cui ne tengo tantissimo sta appena finendo il mese della prevenzione per i tumori al seno delle donne questo è tra tutte la tematica che a me tocca di più e su cui penso sia importante restituire qualcosa al territorio noi quest'anno abbiamo fatto dei progetti bellissimi con l'ILT quindi lega italiana per la lotta ai tumori e nel quadrilatero San Siro abbiamo avuto il camioncino di l'ILT che ha visitato gratuitamente tantissime donne facendo mammografie ecografie senza richiedere documenti la prevenzione è importantissima a volte abbiamo in questi temi un po' il vincolo linguistico e quindi prima di questo evento abbiamo organizzato un incontro con le dottoresse della l'ILT e una mediatrice arabofona che ha risposto a tutte le domande anche su come sarebbe andata la visita e queste sono iniziative importantissime perché la prevenzione deve essere data la possibilità di una prevenzione gratuita a chi non se la può permettere deve essere data la possibilità di prevenzione a chi non ha i documenti deve essere data la possibilità di prevenzione a chi non parla italiano su questo tema Roberta hai già domenato tre volte hai già parlato di documenti perché è così importante questa distinzione cioè appunto fare visite senza chiedere documenti perché nelle nostre periferie a volte abbiamo gli invisibili degli invisibili abbiamo chi ancora burocraticamente non è riconosciuto dallo Stato italiano non possiamo negare però la loro esistenza e quindi è nostro dovere morale prenderci cura anche di loro e sono tante appunto le realtà che sul territorio fanno prevenzione fanno cura anche a volte perché abbiamo parlato di l'ILT abbiamo parlato io mi ricordo anche il camion il pullman di emergence ho visto più volte è fisso tutte le settimane diciamo quando è che tutte le settimane c'è in piazza di Nute giusto? ok perfetto insomma sono tante è importante quindi questa sinergia tra voi amministrazione e questo sociale questo terzo settore che si dà veramente tanto da fare e fa tanto sì io credo che il municipio sia veramente la sentinella del territorio arriva ad una conoscenza quasi umana a dire proprio una conoscenza umana ad personam e quindi il suo ruolo è proprio essere collettore e cabina di regia per indirizzare qualcosa che sia reale tutti questi lavori questi progetti senza una mediatrice arabofona sono il nulla interessante perché appunto spesso l'amministrazione si vanta di essere io conosco tutto anche il tombino sotto casa ma attenzione il tombino è interessante ma forse l'umano un po' di più mi verrebbe da dire quindi complimenti al municipio 7 che può avere questa possibilità appunto di capillarità e di conoscenza umana di quello che succede sul suo territorio ancora una canzone poi torniamo qui perché manca poco ai nostri saluti ma voglio appunto sapere anche quali altri progetti ci sono in così pronti a partire o magari quelli che vorresti far partire che ancora però insomma ci vuole un po' più di tempo non è che poi tutto perché poi sembra tutto facile con te Roberta quindi è infatti cioè la racconti troppo facile quindi poi sembra sono diventati capelli bianchi ah non era bionda pensavo fossero semplicemente biondi no questo è All You Need This Love con i Beatles e siamo quasi in chiusura ma possiamo prima di salutarci sentire l'ultimissima evento molto interessante che state preparando anzi in un trans municipio municipale un gemellaggio un gemellaggio 7 e 6 si mettono insieme per fare che cosa? municipio 7 e 6 si mettono insieme per la giornata contro la violenza sulle donne l'anticipiamo di tre giorni il 22 novembre al Teatro La Creta ci sarà Valentina Pizzali se sappiamo vittima di violenza contro le donne molto pesante anche fisicamente che però è sopravvissuta e racconta la sua storia ad una platea immensa dei nostri ragazzi e delle ragazze delle scuole superiori e magari anche terza media capite perché sono importanti i municipi continuo a dirlo vabbè comunque Roberta Lamberto grazie di essere stati qui con noi questa mattina grazie a voi porti saluti a tutto il municipio dalla presidente agli altri assessori a tutti i consiglieri municipali e tienici aggiornati su soprattutto la situazione del Marchiondi perché insomma noi vogliamo tenere i fari accesi su questa situazione ritornerò perfetto ritornerò come diceva qualcuno e allora grazie mille a Roberta e adesso un po' di musica e poi torniamo qua per i saluti finali sempre qui in diretta su Crystal Radio questo è Good Morning Milano e torniamo appunto fa pochissimo per i saluti finali per i saluti finali per i saluti finali per i saluti finali